eccoci qua ragazzi belli siete buonasera a tutti bentornati qua sul canale dal vostro amico nec nella casa del pane balun ragazzi oggi è una giornata un po particolare siamo alla vigilia ci dobbiamo scambiare gli auguri di natale però c'è qualcosina di cui parlare perché comunque e anche se non c'è il calcio giocato c'è un po di mercato e io vi dirò la mia su un paio di acquisti che secondo me bisognerebbe fare c'è da 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 aprire una piccola parentesi su delle dichiarazioni di un di un ex calciatore del milan che lascia un po il tempo che trova c'è da c'è insomma c'è c'è qualcosa di cui parlare c'è c'è sempre nel mondo del calcio perciò detto questo iniziamo super fatemi ricordare una cosa ragazzi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella per rimanere aggiornati su tutti i miei nuovi contenuti ragazzi grazie di quale continuate ad iscrivervi ingrandiamo questa community mettete un bel like per sostenere il canale fatemi crescere condividete il video ragazzi è periodo di natale si va a fare i regali si spendono i soldi qua è tutto gratuito un bel like al canale per un bel regalo di natale in chi è venuta la rima al volo mettete un bel like al canale così mi fate un bel regalo di natale bella questo è uno spettacolo va bene ragazzi detto questa era giusta una battuta appunto partiamo partiamo col video partiamo subito col mercato perché sto sentendo un sacco di voci in giro di tifosi milanisti no assolutissimamente bisogna trovare il difensore centrale perché manca chi era io devo essere scena non sono dello stesso parere però vedo che anche la società va per quella per quella strada lì sul difensore centrale io non sono poi così convinto di questa cosa qua perché comunque tu hai tomori e romagnoli che sono sostanzialmente titolari perché insieme a chiar erano loro tre titolari che si giravano perciò non è che tu in questo momento non hai il titolare c'hai una riserva i titolari nel milan sono tomori chiar e romagnoli ti manca uno uno di un titolare ma ne hai comunque due a quattro in difesa perciò due ce li hai sempre siccome non hai più le coppe e comunque le partite poi saranno una alla settimana sostanzialmente io devo essere sincero non butterei eventualmente un piccolo tesoretto per il difensore centrale ma andrei da altre parti anche perché difensore centrale tu comunque hai gabbia ragazzi che è vero che ha fatto quello che ha fatto quest'anno quella diciamo quella quella papola quella papera firenze se un po però ragazzi c'è l'anno scorso non si era comportato male gabbia secondo me è un tuo patrimonio devi cercare di valorizzare eventualmente se dovesse succedere qualcosa a uno dei due vuoi far rifiattare puoi farlo entrare cioè secondo me hai gabbia e poi comunque anche calulu che è vero che un adattato però può giocare in quel ruolo io devo essere sincero perché poi dopo non c'è vabbè ma non puoi giocare con un adattato con uno che sì però sostanzialmente ragazzi tu potevi anche aver chiare essere bello tranquillo e rilassato e poi dopo finisce il calcio mercato e ti siano infortuna due se lo stesso punto a capo non cambia nulla ragazzi non cambia nulla io andrei più da altre parti più da altre parti perché il centrocampo a me è quello che mi preoccupa ragazzi perché innanzitutto ancora non ci ho capito un cazzo si giocherà non si giocherà sta coppa d'africa non si è capito perché hanno voluto far credere che forse però molto probabilmente si giocherà perciò detto questo questi partono benna sera che si vanno in coppa d'africa e tu lì che sei veramente messo male perché lì hai tonali e baccaioco e io baccaioco non è che lo butto via perché è vero che ha fatto male però io mi ricordo un baccaioco due anni fa e anche per un certo periodo dell'anno scorso a napoli che aveva fatto veramente bene perciò non è che baccaioco può essere nell'arco di un anno e mezzo cambiato in maniera drastica secondo me poi quando quando acquisisce più sicurezza secondo me poi inizia a fare bene baccaioco io non non mi preoccupa quello perciò hai tonali e baccaioco il problema è che non hai tu hai solo quei due una volta che partono che si è benasera perché crunic te lo devi tenere perché eventualmente lo metti solo a tre quarti non hai nessun altro ragazzi non hai nessun altro e il vero problema è lì al centrocampo perché all'attacco una volta che rientrano leao e rebic va bene pellegrino non ha mai giocato abbiamo capito che non è un giocatore di calcio però tu hai sostanzialmente ibraimovic e giru davanti sulla sinistra leao e rebic che eventualmente possono anche fare la prima punta perché l'ha fatta benissimo rebic inizio campionato l'ha fatta anche in qualche circostanza pure leao sulla destra hai sale maker ai casseglieco ai messias insomma sei coperto in ruolo davanti ti diciamo che sei un po meno coperto sulla tre quarti perché tu li hai brain diaz e eventualmente fai giocare crunic perché maldini ancora e non lo vedo lo vedo un po gracile per potere giocare a calcio qualche spezzettone sì ma ancora lo vedo troppo gracile in campo perciò il vero problema secondo me è anche il trequartista però è il centrocampo perché lì è il succo della situazione cioè e lì ti vengono a mancare comunque ben a sere che sì che poi dopo stando a vedere io gli do sempre dei voti bassi perché ultimamente non mi stanno piacendo però comunque sono dei signori centrocampisti e sanno fare il loro ruolo non sono adattati cioè non è che comunque il loro ruolo lo sanno fare poi c'è la partita che la giocano male come meno bene me è un'annata un po così però sanno fare il ruolo ruolo e vanno via e tu li sei scoperto perché veramente a quel punto lì se gli viene un'influenza tonali sei rovinato o a Bakayoko perché io poi sono convinto che Bakayoko se lo fai giocare e poi inizia a prendere il ritmo partita poi dopo cambia Bakayoko secondo me cambia e inizia a prendere più fiducia sono convinto di questo perché io me lo ricordo due anni fa veramente aveva fatto grandi cose detto questo ragazzi vediamo come va a finire ma io appunto io opterei più per per il centrocampo se c'è da spendere due soldini ecco arriviamo a delle dichiarazioni che ho letto ma l'ho letto l'intraletto non sono voluto neanche più di tanto andare a fondo perché devo essere sincero c'ha la noglu o c'ha l'oglu così come lo chiama il suo allenatore basta taglia corto che poi il calcio è strano guarda che la palla gira io lo faccio per terra taglia corto non c'è da levarti nessun sassolino nella scarpa la la sporcaccia la porcata l'hai fatta tu l'anno scorso quest'estate perciò ti sei preso la tua dose di insulto con un po come tutti i giocatori fanno stanno zitti e basta stai giocando bene io sono noi siamo contenti per te va benissimo ma non continuare adesso anche nell'intervista e l'inter è nettamente più forte non si dicono queste cose la rosa l'inter è più forte del mio non si dicono non si dicono fidati di me non si dicono loro mi hanno voluto a tutti i costi mi hanno accolto non si dicono queste cose qua non si dicono perché se no così vuol dire che tu prendi per il culo le persone basta nessuno pretende che tu dica se ho andato in là perché mi davano più soldi che tanto quella è la verità non lo dire ma non dire neanche quello che dici che dici l'inter è più forte anche se è vero non dirlo è meglio è meglio non dirle certe cose è meglio non dirle secondo me impara un pochettino a stare al mondo tu sei un privilegiato ti becchi la tua dose di insulti hai reagito hai fatto gol al derbe hai fatto le orecchie nessuno ha detto niente giusto così perché non è che uno deve solo subire hai reagito in maniera composta ti sei messo lì con le orecchie c'è chi dice che non dovevi farlo io per me l'hai fatto hai fatto anche bene però basta però basta perché così ti tiri la zappa sui piedi da solo secondo me secondo me e lo sai benissimo detto questo la chiudo subito sta parentesi era giusto perché l'ho letta così al volo e volevo appunto dirla siccome non c'è un cazzo da scrivere a spork mediaset perché tanto lì abbiamo capito come funziona non c'è niente da dire sono andate a vedere un intervisto di cernanoga un giornale turco manco l'avesse fatto alla gazzetta dello sport va bene ragazzi va bene raga e bene detta sta 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 stupidaggine qua arriviamo agli auguri ragazzi io vi auguro un buon natale a voi a tutte le vostre famiglie vi ringrazio di cuore per questa nuova mini famiglia che abbiamo che abbiamo come si dice instaurato tra me e voi è bellissima perciò vi auguro un buon natale di cuore a voi a tutte le vostre famiglie e ci rivediamo domani dai domani domani che è natale ci rifacciamo gli auguri o magari a santo stefano vediamo un po non voglio rompervi i coglioni i periodi di natalizio bene ragazzi allora vi auguro ripeto vi auguro un buon natale spero che vi sia piaciuto questo mio video vi chiedo un bel like se vi è piaciuto condividetelo e come dico sempre io ragazzi ciao